Rimane particolarmente indigesta alla gran parte dei ristoratori la decisione del governo di dare la possibilità ai gestori di riaprire le proprie attività ma solo all'aperto. Nonostante il settore sia stato tra i più danneggiati dall'emergenza sanitaria, tanti titolari dell'attività hanno mostrato i propri dubbi sulla possibilità di poter finalmente riaprire e ritengono le prescrizioni imposte dall'esecutivo fortemente penalizzanti. Non tutti infatti hanno la possibilità di poter sistemare tavoli all'aperto nonostante le amministrazioni comunali in più casi come in quello di Ascoli si siano mostrate disponibili nell'andare incontro alle esigenze dei ristoratori e a concedere spazi più ampi sospendendo anche la tassa di occupazione di suolo pubblico. Altro grosso punto interrogativo però è rappresentato dalle condizioni meteo e dalle temperature che in questo periodo sono ancora piuttosto basse soprattutto di sera e allora c'è chi come Pari De Vagnoni lancia una proposta a tutti i suoi colleghi. Dare la possibilità di riaprire solo con posti all'aperto è una discriminante assurda che non sta né in cielo né in terra. Non parlo per il sottoscritto perché io di posto ne ho tantissimo all'esterno sia qui al caffè che al ristorante però mi metto nei panni dei miei colleghi che non hanno posti a sedere all'esterno e pertanto non riesco a capire come potrebbero fare per riaprire e che cose dovrebbero inventare. Allora a questo punto per solidarietà io chiamerei tutti i colleghi che hanno posti all'esterno di non riaprire per niente, per solidarietà. Perplessità nei confronti della decisione del governo anche da parte di Franco Piccioni. La riteniamo l'ennesima buffonata perché non vengono prese in considerazione tutte le attività che non hanno spazio all'aperto, noi siamo una di quelle. Vi faccio giudicare a voi quanto tempo è che stiamo chiusi, guardate la polvere, è più di un mese che stiamo chiusi, i pagamenti continuano, però purtroppo finché saremo gestiti da gente che non è del settore più di questo non possiamo tenere.